Ciao a tutti, guerriere e guerriere sailor, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Serumoo, per me è 27 dicembre 2023, per voi sarà domenica, sabato chiedo scusa, o sabato o domenica 31 dicembre 2023, chiedo anche scusa per editare questi video, la settimana di ferie sta per terminare perché da martedì prossimo io lavoro e inizio a ritornare a lavorare e mia madre sta sempre una presenza in casa, da quando è in pensione, non solo come questi pochi attimi. Allora, prima di tutto vi voglio farvi gli auguri di Buon Natale, Santo Stefano, spero che averli fatti bene con le vostre famiglie. Quest'anno sul canale YouTube, l'avete visto, non c'è stato nessun riferimento a Natale perché appunto per la prima volta dopo 16 anni di disoccupazione ho iniziato a lavorare e 4 giorni su 7 sono sempre impegnato, poi c'è anche il problema che gli autobus, io non ho nessuno che mi viene a prendere, c'è sempre un traffico quando esco alle 5 dal lavoro, diciamo così, e per Firenze c'è un traffico, compreso gli autobus, un autobus che è diretto a casa mia salta le corse. Devo prendere 3 autobus e farmi un ponte con un terzo autobus, perché è un cavalcavia, diciamo così, poi devo fare un pezzo a piedi, praticamente, un pezzo a piedi dove c'è un ponte, un ponte dove c'è il fiume, quindi io che ho le vertigini, vedete cosa mi tocca fare, e questo autobus salta alle corse, non è mai puntuale, e io per venire a piedi una sera così, perché questo autobus non veniva, ho preso la febbre a 39, quindi pensate un po'. Buon Natale, ora il nostro tema del video è sempre anime e manga, perché da mesi, 5-3 mesi, ho ancora imbustati i manga di Fairy Tail, il volume 2 e il volume 3 della Shet Edizione Integrale, e io, se l'edicolante che mi aveva messo da parte questi manga, devo vedere se, cioè, se c'hanno ancora il 4 e il 5, il volume, poi questo edicolante non mi ha più, non ha più messo niente da parte, perché ha trovato la scusa che non gli arrivava. Vorrei provare, con l'edicolante, quello che sta vicino a dove lavoro, perché i miti giapponesi, i libri di Switch, le leggende giapponesi, mi stanno facendo da parte, e voglio vedere se Fairy Tail mi riesco a recuperare, visto che c'è anche il suo WhatsApp, quindi posso contattare lui, ora però 14,99, i prezzi sono un po' alti, ora vedremo un po'. Se io devo fermarmi, se devo, devo fermarmi, perché su Vinted e Ebay non si riesce a trovare dal 5, dal 6 in poi, sono arrivati 25, 24, 26esimo volume, dovrebbero essere 36, chi si è fatto l'abbonamento, io potrei fare anche l'abbonamento, c'è uno stipendio, eccetera, eccetera, però ora vedrò un po', però su internet, sul loro sito, dal 6 in poi non me lo fa vedere più, ora metto un po' a vedere se li posso recuperare così, oppure l'edicolante, prima ne parlo con l'edicolante. Oggi, ieri sono molto contento per il gasato, spero che domani, che mi porta l'autoregalo, un autoregalo di compleanno, che è una quarta libreria, a 6, a 6 scaffali, e quindi sono molto molto contento, perché dovrò mettere i shonen, questi manga, così è compreso Fairy Tail. Un altro, voglio ringraziare poi, lo vedremo a gennaio, un altro compleanno, un altro regalo di Natale, mi è stato fatto da una ragazza che mi segue, penso qui, su Instagram, no, comunque io lo ringrazio anche su Instagram, si chiama, mi ha detto di dire solo il nome, è appunto Eleonora, grazie Eleonora per questo pacco da Amazon, e che in cui chi mi segue su Amazon lo sa, mi ha fatto un regalo, tre regali, due volumi di Cardcapto Sakura, Clear Card, già vi spoilerò, il 12 e il 13, sapete che a gennaio dovrebbe uscire il 14esimo, e il romanzo di Miele e Shiro, Attacchio della Sprea, grazie, grazie mille. Ora passiamo a Fairy Tail, e l'unboxing di questo. Allora, eccomi qui, a differenza del primo, che costava sui 4 euro, il secondo volume della Shet, costava, costa, 8,99, cioè 9 euro, e dal terzo in poi, costa 14,99, ecco perché ho detto, sono un po' tentato, di o vedere se quest'edicolante me li porta più a là, quest'edicolante dove lavoro, mi ha fatto completare, ora c'ha il 14esimo dei libri giapponesi, e voglio vedere se questo, però io gli devo dire che le devo prendere una alla volta, perché è un po' esagerato come prezzo. Ora aspetto prima che la libreria, la quarta libreria, viene. Allora, ora, lo apriamo, e qui ovviamente, la colla a go-go. Ora vediamo un po', se riesco. Torno subito. Eccomi qui, l'ho fatto, sono uscito, sapete che Hiro Mashima è stato ospite a Luca Comics del 2023, e noi abbiamo il volume 2. Ora tolgo la pellicola, vedi, scusatemi, ho fatto un capri, vi ho tolti. E da una parte questo video, se riesco a vedere, se me l'hanno conservato ancora il 4 e 5, quindi pensate un po', se erano qui i volumi, i volumi, quegli altri lì, veniva più di 20 minuti. Allora, io qui c'ho una... Ordina subito, uscita 3, però vedete, mi dice sempre questi primi tre numeri. Con il secondo invio, uscita 4, 5 e 6. Se io poi, loro mi tengono da parte i 4 e 5, e 6 come si fa? Scusatemi, sto cercando un po' di capire. Io se va aprendo un paypal, con la carta di credito, la spedizione è gratuita. Comunque io ci sto pensando, comunque ora vedo un po'. Il volume 2, questa è la fine, c'è Nansu, ora non mi ricordo loro come si chiamano, perché io non l'ho più letti. qui c'è un poster, ovviamente. Aspettate, il poster è qui. Ok, qui abbiamo, dal capitolo 12, al capitolo 27, e più le extra. Comunque il poster, vedete come sono belli, eh? Il poster è così. Questo del secondo volume, abbiamo, lei, che non so chi sia, chiede, io vi chiedo scusa, per la mia ignoranza dei personaggi, io penso che lei sia questa qui. E il poster, questo qui. Perché è un peccato, rovinare tutti i personaggi. Ehm, io ho visto, nella libreria dei manga usati, che, appunto, c'è Fairy Tail, tutto, io ho visto un annuncio, su Vinted, che diceva, io vendo questa edizione, ehm, edizione, quella piccolina, Bordeaux, rossa, per prendere l'edizione integrale. Eh, vedete come è fantastico le pagine colorate. Aspettate, vedete, questo è il tratto, vedete, certe pagine sono colorate. Devo dire la verità, mh, amo molto, come è stato fatto il lavoro, essendo, questa è la mia preferita, secondo me, mi piace parecchio, e, chiedo scusa, e, io, amo molto, gli extra, sono, queste, quanto è uscito, 11 gennaio 2023, un anno fa, bravo, quindi, vedete un po', allora, vedo un po', se lo faccio, tramite, il pagamento, il pagamento, della carta di credito, che c'è, la spedizione gratuita, ora, vediamo un po', se, eh, perché l'avevo visto sul sito, della Shet, mancavano, mi sembra, dall'11 in poi, ora, vedo un po', vado a prendere il terzo, e arrivo subito, ecco qui, il terzo, eh, che se uscì il 2 gennaio, questo sarà uscito a febbraio, tra febbraio e marzo 2023, e, il, quarto volume, appunto, è 14,99, ora, torno subito, perché, lo, devo aprire, il terzo è stato più facile, comunque, eh, aspettate, che tra plastica, questo e quell'altro, ho paura, ok, questo si è rotto anche, mica ho rotto, ok, ho rotto la pellicola, vabbè, quello dove l'adesivo, l'ho rotto qui, ma meno male il manga, intanto, e la pellicola si è rotta, il terzo è qui, Hiromashima, è arrivato in Italia, a Luca Comics, per presentare, un altro, manga, e abbiamo fatto una cover, con, quella di Fairy Tail, e, della Star Comics, eh, che si univa, come quella del Topolino, con le immagini natalizie, allora, io ora, scusatemi, ce la faremo, Ferdinando, allora, Lachette, ha deciso, di, mettere, come immagine finale, Natsu, e i suoi amici, ehm, ora, lui non so, perché io, la storia, non la conosco, non ho visto neanche l'anime, e allora io dissi, vabbè, eh, prendo questo qui, all'epoca era disoccupato, a gennaio 2023, e, se questo, l'edicolante, forse, me li farà arrivare, tutte e 36, invece, questo tizio, non l'ha fatto, e quindi, eh, dice che non li mandava più, io penso che non, non vendeva, e quindi, ha rinunciato, eh, qui sono i personaggi, vedete, ehm, io ora, come ve lo posso mostrare, ecco qui, io spero che va bene come immagine, e quell'altro post, e dall'altra parte, c'è Natsu, e tutti i suoi amici, allora, io li rimango qui, perché è brutto, staccare, questa lì, è la prima pagina, del capitolo 3, del volume 3, dell'edizione Asset, eh, lei è, si chiama Mira Jane, lei si chiama Mira Jane, 19 anni, trasformazione, odia e scarafaggia, amme e cucinare, dal capitolo 28, fino al capitolo 44, quindi ragazzi, è tanta roba, tanta roba, perché, eh, qui, ora, io le pagine colorate, non le trovo, qui abbiamo anche delle schede, dei personali, eccole qui, l'ho trovata, una pagina colorata, eccola qui, queste sono le pagine colorate, del terzo volume, ora, se l'edicolante, mi terrà da parte, quello lì, eccole qui, l'ho trovata, immagine colorate, eh, faremo un video, anche sul 4 e 5, comunque, come disegni, mi piace parecchio, però, come ho detto, eh, devo riuscire, a recuperarle, eh, qui abbiamo anche, dei gallery, degli schizzi, con nazo, ancora non so, vedete, i vari personaggi, Iromashima, che viene sempre intervistato, questa è un'edizione, eh, che, eh, in Francia, vedete, già abbiamo un nazo, si è formato, già i personaggi, cosa che io, non ho, eh, tutti i volumi, e ora sto, pensando un po', di, eh, prendere, ora, di vedere un po', se, sull'ascetto, sul loro sito, io riesco a prendermi, qualcosa, poi, vi farò sapere, se no, io sono fermo, con i, i primi 5 volumi, ok, spero che il video, sia stato, di vostro, interessante, abbiamo fatto un unboxing, anche il prossimo video, finalmente sono, come ho detto ieri, su Instagram, sono, i miei regali, di compleanno, novembre, 2023, se non un fan, si è affiliato ad Amazon, il mio secondo canale, iranitumberpois, il mio blog, visto che il computer, quello che mi ha regalato, mio fratello, non si accende, misteriosamente, il computer, il monitor, funziona, ma quello sotto, no, mi dovrò, dovrò comprare, anche il computer, quindi, pensate un po', pensate un po', cosa devo fare, noi ci vediamo, nel prossimo video, appunto, sono i regali, di compleanno, e penso, le letture, manca ottobre, novembre, ora non mi ricordo, come ultimo video, questo dicembre, 2023, ciao ragazzi, e poi,